Un operaio dell'indotto dell'Eni, Antonio Vizzini, di 54 anni, dipendente dell'impresa Lorefice, è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 10 nell'area della centrale termoelettrica della raffineria di Gela. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, pare che l'operaio sia stato investito e schiacciato da una gru in manovra durante lavori di manutenzione ordinaria. Soccorso è trasportato in ospedale, Antonio Vizzini è giunto al pronto soccorso dopo il decesso. Indagini sono state avviate dai carabinieri, la zona dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Oltre all'inchiesta giudiziaria sono scattati anche gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro e della Direzione della Raffineria, che è ferma per l'incendio del 15 marzo scorso avvenuto in una tubazione tra gli impianti topping e cooking all'isola 7 nord dello stabilimento. A lanciare l'allarme è stato il pilota della gru che in quel momento stava manovrando la torre. È stato proprio lui ad accorgersi che la vittima era rimasta travolta dalla rolla. Anche lui adesso in ospedale è stato di shock. Sul posto, come si sa, sono intervenuti polizia e carabinieri.